I verbi italiani per studenti di livello A2 Prima coniugazione, i verbi in are Modo indicativo, tempo presente Esercizio numero 1 Coniugare dieci verbi all'indicativo presente Disegnare, disturbare, domandare, entrare, fumare, giocare, girare, gridare, guardare, guidare Adesso mettete il video in pausa Prendete un quaderno e una penna E cominciate a scrivere la coniugazione dei seguenti dieci verbi Guardate gli esempi successivi per aiutarvi Le risposte all'esercizio numero 1 con gli esempi Disegnare Io disegno, tu disegni, lui lei disegna Noi disegniamo, voi disegnate, loro disegnano I bambini disegnano tutti i giorni a scuola Disturbare Io disturbo, tu disturbi, lui lei disturba Noi disturbiamo, voi disturbate, loro disturbano Mario disturba sempre i professori con i suoi scherzi Domandare Io domando, tu domandi, lui lei domanda, noi domandiamo, voi domandate, loro domandano Maria domanda a sua madre come si cucina la lasagna Entrare Io entro, tu entri, lui lei entra, noi entriamo, voi entrate, loro entrano Tu entri in casa senza fare rumore Fumare Io fumo, tu fumi, lui lei fuma Noi fumiamo, voi fumate, loro fumano Noi fumiamo da quando avevamo sedici anni Giocare Io gioco, tu giochi, lui lei gioca Noi giochiamo, voi giocate, loro giocano Prima studiamo e dopo giochiamo Girare Io giro, tu giri, lui lei gira, noi giriamo, voi girate, loro girano Io giro la carne sulla griglia ogni due minuti Gridare Io grido, tu gridi, lui lei grida, noi gridiamo, voi gridate, loro gridano Per favore non gridate, i bambini dormono Guardare Guardare Io guardo, tu guardi, lui lei guarda, noi guardiamo, voi guardate, loro guardano Noi guardiamo i video di Roberto su YouTube Guidare Guidare Io guido, tu guidi, lui lei guida, noi guidiamo, voi guidate, loro guidano Paola guida la macchina molto bene Esercizio numero due Coniugare dieci verbi all'indicativo presente Immaginare Imparare Incontrare Indossare Indovinare Ingressare Iniziare Insegnare Inviare Invitare Adesso mettete il video in pausa Continuate a scrivere sul quaderno la coniugazione dei seguenti dieci verbi Guardate gli esempi per aiutarvi Non Guardate Inviare Inviare In Viare Inviare In Viare Ci Viare Mariano Ven In Viare I le risposte all'esercizio numero due con gli esempi immaginare io immagino tu immagini lui lei immagina noi immaginiamo voi immaginate loro immaginano noi immaginiamo che anche quest'anno Babbo Natale arriverà con tanti regali imparare io imparo tu impari lui lei impara noi impariamo voi imparate loro imparano gli studenti stranieri imparano la lingua italiana incontrare io incontro tu incontri lui lei incontra noi incontriamo voi incontrate loro incontrano noi incontriamo i nostri amici al bar indossare indossare io indosso tu indossi lui lei indossa noi indossiamo voi indossate loro indossano tuo padre indossa sempre camicie azzurre indovinare indovinare io indovino tu indovini lui lei indovina noi indoviniamo voi indovinate loro indovinano Roberto indovina sempre i risultati delle partite di calcio ingrassare io ingrasso tu ingrassi lui lei ingrassa noi ingrassiamo voi ingrassate loro ingrassano voi ingrassate se mangiate la pasta ogni giorno iniziare io inizio tu inizi lui lei inizia noi iniziamo voi iniziate loro iniziano io inizio a studiare la mattina presto insegnare io insegno tu insegni lui lei insegna noi insegniamo voi insegnate loro insegnano Roberto insegna la lingua italiana da oltre vent'anni inviare io invio tu invii lui lei invia noi inviamo voi inviate loro inviano Carlo invia un pacco ai suoi genitori a Milano invitare io invito tu inviti lui lei invita noi invitiamo voi invitate loro invitano noi invitiamo i nostri amici a cena tutti i miei video sono estratti dai miei manuali di lingua italiana per studenti stranieri se desiderate supportare il vostro insegnante acquistateli su Amazon questi sono i link su Amazon dove potrete trovare i miei manuali di lingua italiana per studenti di lingua russa studenti di lingua tedesca studenti di lingua inglese manuale di lingua italiana per studenti di lingua russa manuale di lingua italiana per studenti di lingua tedesca manuale di lingua italiana per studenti di lingua inglese questi sono i link su Amazon per gli studenti di lingua cinese e per gli studenti di lingua brasiliana questo è il mio manuale per gli studenti di lingua cinese questo è il mio manuale per gli studenti di lingua brasiliana grazie